Una ricostruzione di qualità, frutto di una sinergia seria e concreta tra tutti gli organi istituzionali. I numerosi interventi strutturali e infrastrutturali che si sono succeduti nel tempo hanno saputo rispettare in pieno l'identità urbanistica e ambientale della città. È quanto emerso dalla visita effettuata dalla seconda commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria alla comune di Nocera Umbra per verificare lo stato di attuazione dei lavori di ricostruzione post terremoto. Ad attendere i consiglieri regionali Gianfranco Chiacchieroni, presidente, Massimo Mantovani, vicepresidente, Maglio Mariotti, Raffaele Nevi, Maria Rosi, Orfeo Goracci, è stato il sindaco Giovanni Bontempi con la giunta al completo, oltre ad altri consiglieri comunali tra i quali l'ex sindaco Donatello Tinti. Il primo cittadino dai banchi dell'aula consigliare dopo aver rimarcato l'ottimo e proficuo rapporto con la giunta regionale e con i suoi uffici ha sottolineato come la ricostruzione privata sia ormai giunta alla fase conclusiva. Per la parte pubblica invece sono stati attivati lavori per 15 milioni di euro, mentre altri sette andranno in appalto nei prossimi mesi. Il sindaco non ha poi mancato di ricordare le molteplici problematiche che stanno attanagliando il territorio, a partire dalla vicenda ex Merloni fino all'incertezza lavorativa, che riguarda anche i 27 lavoratori precari del comune assunti nelle varie fasi della ricostruzione. La visita è proseguita con un sopralluogo all'interno del centro storico della città, toccando sia la parte alta che, scendendo attraverso i caratteristici vicoli interni, la piazza principale. Ultima tappa il nuovo edificio in fase di costruzione che ospiterà la scuola elementare dall'anno scolastico 2015-2016. Un sopralluogo importantissimo per noi, per Nocera, ringrazio il presidente Chiacchieroni e tutti i membri della commissione che sono saliti oggi qui a Nocera. Abbiamo visitato forse tre cantieri più importanti in questo momento della ricostruzione, di questa ricostruzione che sta andando verso la sua fine e abbiamo potuto vedere la bellissima pavimentazione che stiamo riposizionando, il cantiere della UMI1 con tutti i portici e la chiesa di San Filippo e la ricostruzione delle scuole, lavori attesi ormai da tanti anni che grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti, stanno vedendo la fine. La nostra presenza vuol sottolineare il grande lavoro svolto in Umbria per la ricostruzione del 97. Nocera è stata completamente ricostruita, mancano soli dettagli e rifiniture, ma abbiamo potuto vedere un grande lavoro, un grande lavoro che ha visto impegnate le istituzioni, in primo luogo il comune di Nocera, nelle varie amministrazioni che si sono avvicendate e la regione dell'Umbria che ha accompagnato questo grande processo.